ciao a tutti sono nicolò di palma strumenti musicali oggi cambiamo le corde a una chitarra classica primo step togliere le corde vecchie trucchesino e via si sfidano dal polse e dalle meccaniche poi mi raccomando se scoprite in che secchio buttare il nylon me lo dite bisogna portarlo in discarica nylon o l'acciaio si aiuta con una pinza perfetto fate la raccolta differenziata delle corde mi raccomando e veniamo al secondo step pulire la chitarra che adesso non ha le corde quindi possiamo lucidare anche le parti un po nascoste dalle corde la tastiera tasti e qua soprattutto qua possono utilizzare dei prodotti monouso tipo questi della herniball dove trovi tutti i prodotti che servono per fare una pulizia totale oppure prenderli separatamente quindi per la tastiera in palissandro le monoyle quindi un olio che nutre il legno scuro per il corpo c'è il boss guitar detailer da spruzzare direttamente su un panno in microfibra che buon profumo facciamo vedere lo sporco io faccio anche una passata di boss che buon profumo e già la chitarra ha un altro aspetto anche la paletta ha bisogno del suo passaggio passiamo alla tastiera fretboard conditioner come dicevamo prima monouso oppure da spalmare sulla tastiera con un panno in microfibra si passa ben bene fra un tasto e l'altro anche qua lo sporco si vede è arrivato il momento di lasciare asciugare terzo step siamo quasi alla fine corde nuove scegliete le vostre corde a seconda della tensione che voi preferite questa è una chitarra che merita delle corde anche di tensione alta suona di più per non sbagliarci su ogni corda solitamente è descritta la nota che andrà a suonare oppure se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta o la sesta per non sbagliarci ogni corda ha sopra il numero della corda corrispondente oppure la nota ricordatevi che la prima è la prima è la più fine, il micantino è la prima, mi raccomando e iniziamo proprio dal micantino svolgiamo la corda togliamo questo che non ci interessa e si parte da ma due inseriamo in direzione la corda nel punticello nel buco corrispondente la prima corda facciamo uno due e io direi anche tre nodi e stringiamo rimane un pezzettino qua, corto mi raccomando, troppo lungo ci darà fastidio se poniamo e stringiamo dall'altra parte, la tendiamo la corda e la inseriamo nell'asola della meccanica corrispondente prima corda, primo buco non la tendo al massimo perché così facendo non starebbe accordata la corda quindi cosa faccio? prendo quattro delle mie dita belle tozze, le appoggio al capotasto e le appoggio dall'altro lato alla corda faccio vedere meglio così che rimanga un po' di gioco alla corda perché la corda deve avvolgersi sulla meccanica su se stessa così che rimanga accordata meglio visto che la corda è liscia e potrebbe scivolare via con la tensione faccio un nodo anche qua controllo che il gioco ci sia stringo il nodo alla meccanica e prendo il marchigegno di prima che mi è servito per togliere le corde che fa anche da avvolgi corde e via tendo se non avete avvolgi corde potete usare il black n decker di casa così ci mettete un attimo scherzo eh ora che abbiamo montato le corde tutte sei la chitarra è scordata prima di accordare togliamo i residui di corda che sono rimasti che non servono a niente se non a bucarci la borsa sempre col tronchesino di prima eh il mio papà non lo fa mai questo lavoro fa sempre dei nodi su loro stessi fa degli arzigogoli però a me piace toglierli come si fa ad accordare una chitarra? con l'accordatore chiami Alberto ogni volta Alberto verrà a casa vostra vi farà vedere l'accordatore con l'accordo c'è già dentro la pila me l'ha detto anche Alberto lo mettiamo in favore del mio camera mè pinzalo qua pinzo qua lo schermo che mi fa vedere la nota lo accendo e vediamo se riusciamo a farlo vedere in favore di camera il schermo adesso è acceso vediamo se si vede regia si vede? si vede si vede benissimo gli accordatori digitali li vendono nel mondo quindi non possono scrivere dore mi fa sol perché nel resto del mondo dore mi fa sol non è conosciuto conoscono il metodo anglosassone il mi in inglese è E la lettera E quindi io tendo la corda fino a raggiungere l'ottava giusta del mi essendo questo un accordatore che mi dice tutte le note mi dirà tutte le note che sente io dovrò sapere a che nota sono perché sennò non lo sapremo mai quanto manca al mi arrivati a D sappiamo che manca una sola nota ad arrivare a mi ecco qua e con lo schermo che si colora di verde è giusta ovviamente la corda è nuova e tende a calare la nota perché la tensione della corda e il nodo che abbiamo fatto qua e il nodo che abbiamo fatto qua si devono stringere per bene quindi già adesso la corda si è scordata il trucchetto del mestiere è fare questo lavoro su tutta la corda tenderla così che arrivi prima in tensione ed ecco qua la nostra chitarra facciamo gli ultimi passaggi per pulirla dalle nostre dittate e siamo pronti a suonare grazie di aver guardato questo mini tutorial per cambiare le corde della chitarra classica ci vediamo la prossima puntata per cambiare le corde di un altro tipo di chitarra ciao